Finalmente è domenica, quest'oggi parte da qui, dentro lo studio, perché qui parte un viaggio nel tempo. È una sera d'ottobre, esattamente 44 anni fa, 16 ottobre 1978. Quella calda sera d'ottobre ha cambiato la storia dell'umanità. Guardate. Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Se sapeste chi ho davanti a me, capireste che questa elezione ha cambiato la storia dell'umanità, ma anche la storia proprio nostra, dei credenti. Giovanni Paolo II, oggi è un anniversario importante, che vogliamo celebrare con chi ha anche intrecciato il suo cammino, con quello di Giovanni Paolo II. Ed è il professor Pino Noia che noi ringraziamo e salutiamo. Pino, mi stavi dicendo una cosa, che oggettivamente si comprende da quelle immagini. Quest'uomo è entrato nel cuore delle persone dalla sua prima apparizione. L'abbiamo visto dalle immagini. Quest'uomo era la sua vita, che entrava attraverso un'azione dello Spirito Santo, nella benevolenza, nella simpatia. Per avere una risonanza così grande, mondiale, non può essere solo capacità attrattiva della persona, è che lo Spirito agiva in lui e agiva nella maniera più consona alla umanità delle persone. Ecco che cosa hanno visto in Giovanni Paolo. Hanno visto un Papa amico, un Papa vicino, un Papa che mi risponde, un Papa che riempie con elementi testimoniali la mia esistenza. Questo l'ha fatto diventare grande. E questo non lo dice un uomo di chiesa, ma lo dice uno scienziato. Pino Noia, per i pochissimi che ancora non lo sapessero, è un ginecologo ed è anche un uomo che si è preso cura della vita pre-natale, anche quando quella vita si fa particolarmente complicata. Pino, tu hai avuto modo di incontrare Giovanni Paolo II ben tre volte e sono stati tre momenti molto importanti anche per la tua attività di uomo di scienza. Sì, intanto l'ho incontrato quando è uscito l'Evangelio Vite, ma l'ho incontrato non fisicamente in quel caso, l'ho incontrato per i contenuti di questo Vangelo della vita. Cosa ti era arrivato? Mi è arrivata una cosa tale che io ho letto quel libro e dopo due minuti ero con la chitarra a scrivere un testo che parlava dei bambini non ancora nati, cioè dei bambini che venivano abortiti e che ho visto come in un giardino. Difatti quella canzone si chiama Il giardino del re. Perché? Perché nel giardino ci sono i fili d'erba, quelli che vengono falciati, e i fiori. I bambini nessuno li aveva fatti parlare. Io ho visto che l'Evangelio Vite faceva parlare i bambini che non avevano voce. E Giovanni Paolo è stata la voce di chi non aveva voce. E quando i bambini dicono siamo dei fili d'erba nel giardino del re, sulla nuda terra germogliati perché questo grande orrore non ci spezzerà perché noi viviamo per l'eternità, io sentivo che dovevo dare con tre accordi voce al giardino del re. E quando il bambino dice vita, vita, catena di meraviglia infinita, cresce, poi sale il desiderio di perdonare il male. Ecco, io ho visto proprio Gesù nei bambini abortiti. La santità del martirio. Perché? Perché Gesù ha dato la sua vita anche contro, purtroppo in quel caso sono le mamme che gli tolgono la vita. Magari non è un puntare il dito verso le donne. Mai l'abbiamo fatto. Ti pregherai di sottolineare questo aspetto? Mai, mai, mai l'abbiamo fatto, abbiamo avuto... Perché questa è una cosa personalmente a cui tengo tra l'altro anche molto. Non solo, ma c'è la parola di Giovanni Paolo, che dice che chi ha fatto questa scelta tragica e di grandissima sofferenza ha più bisogno di amore. Basta la sofferenza dopo, postuma, per capire quello che stiamo dicendo. Io l'ho vista. Pino, tu quando incontri Giovanni Paolo II al Gemelli, dove ti trovavi, era un papa appena convalescente, attentato, che tutti quanti sappiamo. Che cosa ravvedi lui? Questa forza di cui hai parlato all'inizio, come si trasforma in quest'uomo? Guarda, quest'uomo, ecco perché dico che è un uomo pieno di Spirito Santo, quest'uomo trasformava tutte le vicende umane, tutte le occasioni di incontro in un parlare di Gesù all'uomo. E quando lui non poteva parlare, quando lui non poteva agire nella pienezza umana, parlava la sua sofferenza. Era un uomo che parlava, che comunicava. Questo dono della comunicazione, che l'ho reso famoso nel mondo, era soprattutto presente, ed è stato soprattutto presente nella sua sofferenza. Come Gesù, che è stato innalzato, ha parlato e ha tratto tutti a sé, anche lui, quando proprio era nella sofferenza, ha tratto tutti a sé. Pino, forza e sofferenza sono un connubio quanto mai azzeccato quando si parla di Giovanni Paolo II. Ce lo conferma un altro grande amico di GP2, come noi siamo abituati a chiamarlo noi, che è il Cardinal Comassi. Siamo andati a casa sua e siamo andati a raccogliere la sua testimonianza. Guardiamolo insieme. Quando ho incontrato Giovanni Paolo II, sono rimasto subito affascinato dal suo sguardo. Ricordo il primo incontro era l'11 marzo del 1991. Ero vescovo da pochi mesi, quindi non avevo una relazione da portare. Fu un dialogo spontaneo. C'era stato l'attentato, alcuni anni prima. Io per aprire il dialogo, il discorso, gli dici, Paolo Santo, come ha fatto a ritornare in Piazza San Pietro dopo l'attentato? Lo vedo ancora, mi guarda e mi dice, e lei pensa che io non abbia avuto paura? Si ricordi che tutti abbiamo delle paure, tutti. Ma i coraggiosi sono quelli che, pur avendo paura, vanno avanti nella missione che Gesù ha loro affidato. Pensa che quando dopo l'attentato, non dopo, andò a Rebibbia a trovare Aliaccià, Aliaccià ebbe la sfudratezza di chiedergli, mi dica un po', ma perché lei non è morto? Io feci pari santo, e cosa ha risposto? Ho risposto così, perché sopra il potere dell'altra rivoltella c'è il potere di Dio, e la mano materna di Maria. Ecco perché sono vivo e so qui. Aveva due occhi, nei quali tu vedevi quasi in prospettiva all'infinito, la presenza di Dio, si avvertiva. L'ultima volta ho visto Giovanni Poro II, ricordo il pomeriggio, che poi la sera è morto. Ricordo che mi chiamò il segretario, venga a dare l'ultimo saluto, entrai nella camera del Papa, il segretario gli scosse un po' la spalla e disse al Papa, Padre Santo, c'è qui Loreto, perché io venivo da Loreto, io vedo il Papa che apre gli occhi e fa, no, San Pietro. Io dissi, Padre Santo, lei mi ha chiamato, ora mi lascia. Dico, mi dà la sua benedizione. Vedo che alza la mano, gonfia e cade. Alza la mano e cade. Gli faccio, Padre Santo, la benedizione è già partita dal cuore, a me basta così. E lui ci segno gli occhi. Poi vidi che con la mano cercava, cercava, oddio, poi mi accorsi che cercava la corona. Gli era sfuggita dalla mano ed era finita poi in fondo al letto. Allora ho preso la corona e gliel'ho messa nelle mani. Lo vedo ancora. Apri gli occhi e mi fa, grazie. È l'ultima parola che mi ha detto. Ma gli occhi sprizzavano gioia. E uscendo dall'appartamento del Papa, io mi son detto, ma perché era così contento? Era convinto di aver dato tutto. Le forze le aveva spese tutte per fare del bene. E quando si fa del bene, ci si fa del bene. Grazie a Giuseppe Cutrona per aver curato la regia di questo contributo. E ai nostri Lucio Ciavola e Maru D'Agostino che mi hanno accompagnato a casa del Cardinal Comastri. Pino Noia, è stato un gioco di sguardi anche negli ultimi due incontri che tu hai avuto con Giovanni Paolo II. Ricordo che c'era una riunione in Aula Nervi che aveva organizzato Carlo Casini. Presidente, il fondatore del Movimento per la Vita. e presentava lì dinanzi a 4.000 persone le persone che si impegnavano a difendere la vita. Venne il mio turno, disse, Santità, il professor Noia cura i bambini in utero e portai il libro Le terapie fetali. Lui guardò il libro dove c'è un embrione che sta per essere curato. Mi guardò e in quel momento ho detto mi sta facendo l'endoscopia dell'anima. Mi sono sentito proprio nudo dopo un certo punto quello sguardo magnetico si tradusse in un sorriso di incoraggiamento. Benedisse il libro, benedisse quello che facevo e disse professore sempre avanti, mi raccomando, sempre avanti. La cosa bella è che dopo 8 anni andai da una mistica calabrese che tutti conoscono e dissi a mamma Natuzza dico mamma sto facendo ho fatto una ricerca sulle cellule staminali della placenta però non riesco a trasportare questo dall'animale sperimentale all'uomo con le cellule staminali eticamente giuste quelle della placenta e lei disse in dialetto e chi sono questi staminali che cosa sono queste staminali parlare delle staminali a mamma Natuzza era difficile e disse sono cellule della placenta che invece di buttarla vengono messe in laboratorio vengono preparate e poi le possiamo usare per curare malattie genetiche dei bambini prima della nascita e lei? 30 secondi 40 secondi un minuto non succedeva nulla dico ma che è successo dopo un po' ah questa è una cosa buona sembra avanti sembra avanti le stesse parole di Giovanni Paolo II Pino allora Natuzza l'hai citata sappiamo tutti che si è aperto il processo di beatificazione un santo come San Giovanni Paolo II la santità vista con gli occhi di un uomo di scienza che cos'è? la santità è come dice adesso molto per far capire a tutti quello che dice Papa Francesco la santità della porta accanto io in questi giorni c'è stato un convegno sulla santità oggi e mi hanno chiamato a parlare di cultura della vita e santità e io ho detto in questi 40 anni ho incontrato tre tipi di santità una santità di martirio che è quella dei bambini purtroppo con fragilità prenatale che invece di essere accolti vengono appunto condotti verso una ti posso fermare un attimo su questo punto importante mi fai fare l'avvocato del diavolo sì e lo posso fare nella libertà di chi ci guarda che sa chi siamo chi è il nostro editore e sa anche come la pensiamo quando tu parli di martirio parli sia dei bambini che vengono abortiti per scelta costrizione comunque di una madre di un padre se ci sono che anche dei bambini che sono dei bambini questo è un punto su cui noi spesso ci siamo scontrati che non hanno alcuna possibilità di vivere che senso ha portare avanti una gravidanza che è una gravidanza di una vita disperata che a stento vedrà il tempo di nascere me lo spieghi non è dolore è fatto questo ad una donna ad una famiglia che cos'è? questo è molto giusto questa è una domanda molto opportuna e io l'ho data la risposta che senso ha accompagnare una vita che poi dopo si spegne dopo ore dopo giorni dopo poco tempo dopo la nascita il senso lo recepiamo dal impatto con le famiglie le famiglie rispondono le famiglie si impegnano nei social vanno in giro a dire come hanno scritto sull'American Clinical Genetics una rivista scientifica 600 famiglie hanno risposto padri e madri di trisomia 13 e 18 e hanno detto i nostri bambini non sono una diagnosi sono i nostri figli e lanciano una cosa che non riusciamo a capire una cosa è la malattia una cosa il figlio non si può buttare l'acqua sporca col bambino l'acqua sporca non si deve buttare si deve cercare di pulirla di aiutarli lenire il dolore condividere accompagnarli perché quello che conduce alcune scelte è la desolazione è la solitudine cosa dicono queste famiglie a noi della fondazione il cuore in una goccia 2000 famiglie accompagnate dicono noi pensavamo che la scienza avesse risposte solo tecniche però c'è stato le famiglie che hanno condiviso le famiglie testimoni come dimostra l'impegno di Anna Luisa mia moglie che è la responsabile delle famiglie in cui le mamme si mettono accanto di altre mamme e poi quando le accompagnano Anna Luisa dice grazie perché fai questo lavoro di condivisione e loro dicono no grazie a voi che ci permettete di farlo perché la carità copre una moltitudine di peccati sai Pino sempre nel rispetto di chi è stato costretto io preferisco parlare sempre di donne o uomini costretti poi ad una scelta questa cosa è importante da dire perché mi fa pensare subito ad un altro dono che tu hai ricevuto nella vita oggi parliamo un po' allarghiamo questo fronte della santità madre Teresa quelle vite scartate sono quelle che madre Teresa a un certo punto ti dice tu da medico se le raccogli le dai a me ce ne andiamo un minuto in pubblicità così la anticipiamo e poi dopo abbiamo tutto il tempo di goderci quest'altra pagina perché se uno ha la fortuna di conoscere anche madre Teresa di Calcutta il cuore non è più lo stesso rimanete con noi come ne andate sei fonte bentornati a Finalmente Domenica grazie regia per questa immagine Pino Noia ginecologo madre Teresa di Calcutta noi siamo partiti perché si fosse messo in ascolto solo adesso da una data una data storica che è il 16 ottobre del 1978 arriva un santo ed è Giovanni Paolo II e poi siamo passati e siamo arrivati fino a madre Teresa di Calcutta che è un'altra degli incontri che fa questo sarei un predestinato alla santità che ti devo dire Pino Noia non ho idea a questo riguardo parlavamo di vite a perdere o vite perse sono i bambini che le famiglie possono rifiutare che le famiglie decidono anche di far nascere nonostante diagnosi terribili madre Teresa ti prende quasi in contropiede madre Teresa dopo tre anni che Giovanni Paolo era diventato papa viene a ricevere la laurea onoris causa al gemelli sento che c'era lei devo andare assolutamente a sentire questa donna che era un caso unico riceveva il Nobel non per motivi diplomatici o politici ma perché difendeva la vita debole fragile gli ultimi i poveri chiamava i bambini non nati i più poveri tra i poveri e quando le consegnarono la laurea onoris causa io non sono degna di ricevere questo riconoscimento ma lo ricevo a nome dei più poveri tra i poveri a voi medici di questo policlinico dico se avete una donna incontrato una donna che non vuole il proprio bambino non lo può portare avanti per le più varie necessità datelo a me give him to me me lo prendo io oddio lì è stato un trapano un trapano nel mio cuore ho detto ma io che ci sto a fare a fare il ginecologo che senso ha questa scienza tutto questo impegno se non lo faccio diventare servizio è iniziata una collaborazione con altre 15 persone abbiamo creato una task force insieme a Monsignor Barra abbiamo seguito le ragazze madri che guardate la caratteristica non hanno un uomo con cui vivere perché sono state abbandonate non hanno un posto non hanno nulla e accolgono la vita fragile e chi c'ha tutto non accoglie la prima cosa che mi ha colpito che mi hanno insegnato le ragazze madri 5.000 ragazze madri seguite 5.000 bambini nati sfuggiti all'interruzione per scelta delle donne ma consolate da un abbraccio delle suore della scienza e di altri tanti volontari non dimentichiamo anche mai che si può anche partorire nel più assoluto anonimato e lasciare i bambini poi a chi possa accoglierli invece nostra questa è una cosa da cui non dobbiamo sfuggire assolutamente ma a questo volevo aggiungere una piccola cosa dopo questo inizio madre Teresa ha dato luogo ha storato nel nostro cuore l'importanza di creare la terapia del feto in utero abbiamo cominciato a creare ricerche cliniche di base abbiamo formato abbiamo dato grande spazio alle consulenze col telefono rosso 10.000 consulenze ogni anno 90% di bambini salvati non per merito mio ma di chi lo dirige perché è una scienza che non fa meno della vita anche in quel caso assolutamente siamo rigorosi da un mondista scientifico però creiamo consapevolezza non ci sostituiamo alle donne ma in punta di piedi stiamo accanto e le facciamo capire che esiste una scienza che può curare questo è quello che hanno capito le donne e poi nasce appunto la terapia la palliazione del feto in utero nasce il cuore in una goccia che è la fondazione ci arriviamo tra pochissimo perché mi devo rubare quello che tu hai detto prima da una osservazione da un monito di Maretresa scoppia qualcosa nel cuore l'incontro con i santi è un incontro che ci cambia ma abbiamo chiesto a Caldinaccomastri cosa vuol dire questa santità abbiamo tirato di bocca queste parole guardate santi sono coloro che hanno vinto la forza di gravitazione dell'orgoglio e dell'egoismo e hanno fatto della loro vita un dono generoso anzi eroico di se stessi per gli altri non si rendono conto di essere santi ce ne accorgiamo noi non loro perché i santi sono sempre persone umili penso San Francesco Rassisi bellissimo il dialogo tra lui frate Maseo e questo fraticello gli disse frate Francesco tutti vogliono te tutti vengono liattrati ma perché io risposto sai quale perché perché gli occhi dell'altissimo Dio non hanno trovato un peccatore più indegno e più insufficiente di me perché stanno posando gli occhi su di me beh il mondo molto spesso dà dei giudizi assolutamente fallimentari quanta gente viene osannata e poi vai a vedere non c'è niente c'è un salmo il salmo 4 che dice uomini ma perché siete così stolti perché incensate il niente quante volte è ben incensato il niente santi non si nasce santi si diventa con un lavoro di sinergia tra noi e Dio le si ricordi che quando la libertà dice no Dio non sfonda le porte nell'Apocalisse c'è questa fotografia di Dio ecco io sto alla porta e busso non posso ringraziare la tenerezza infinita del Cardinal Comastri farla nostra e portarla in questo studio con il professor Pino Noia Pino questo Dio che ha bussato alla tua vita attraverso anche Giovanni Paolo II Madre Teresa Natuzza cosa pensi che ti abbia voluto dire te lo sei mai chiesto? il primo pensiero è che quando hai la grazia di conoscere i santi devi sempre pensare che non è un merito ma un privilegio ma è un dono quindi la persona deve accogliere ma anche un dono è responsabilità come ha scritto Giovanni Paolo II quindi questa responsabilità è quella di rendere la nostra vita piena come diceva Santa Teresina a me non interessa di essere un vaso piccolo o grande l'importante è che sono un vaso pieno per questo Pino poi nascono i nuovi hospice come l'ultimo che avete inaugurato a Caserta nasce un incontro importante il 5 e 6 novembre proprio a Roma per dire che cosa? per dire che noi abbracciamo abbracciamo questa è la caratteristica per cui di Castello Laici Famiglie e Vita ha voluto fare un evento mondiale tre anni fa perché avete scelto noi ma perché voi insieme con molte altre realtà pro-life bellissime ma voi avete una specificità la scienza la famiglia e la fede e questo triplice abbraccio che circonda le persone il senso di portare avanti una gravidanza con un feto incompatibile con la vita extrauterina nessuno di noi è incompatibile ma ci sono bambini che hanno una vita limitata bene noi scegliamo voi per questo motivo perché accanto a una risposta tecnica c'è amore c'è solidarietà c'è supporto psicologico c'è preghiera potenza della preghiera ma c'è anche supporto di tipo economico Pino è negabile che queste cose si ha la fortuna di trovarle laddove ci sono penso alle persone che non hanno questa rete attorno a chi si ferma ad una diagnosi ripeto per l'ennesima volta c'è un'azione e ci sono le persone l'azione non coincide con le persone sempre è quello che dice Papa Francesco c'è un peccato e poi il peccatore che è un uomo prima di tutto qui non si tratta assolutamente di demonizzare nulla ma a chi si ferma ad una diagnosi tu che cosa ti senti di dire? ma io dico ho avuto sempre un grande rispetto per coloro che non pensano questo tipo di approccio medico sono stato invitato in 7-8 parti d'Italia dove ci sono colleghi pro-aborto e io pensavo di andare lì a combattere chissà quale battaglia e invece è successo una cosa straordinaria mi hanno accolto con applausi hanno voluto sentire le mie ragioni mi hanno fatto domande ma non mai maliziose o contrastate alla fine molti mi hanno stretto la mano uno mi ha detto e non dico chi perché ovviamente per ovvi motivi anche noi avremmo voluto fare questo cammino ma il nostro destino purtroppo ci ha portato ad un'altra parte però io ti posso dire una cosa io ti abbraccio e ti ringrazio e mi ha abbracciato quindi come posso fare a non parlare a coloro che magari non la pensano per dire c'è un linguaggio comune che possiamo fare e facciamolo Pino Noia ti abbracciamo anche noi faccio così con le mani 5-6 novembre questo incontro importantissimo il titolo è accoglienza abbracci amore e allora accoglienza abbracci amore io me le prendo queste parole le destino alle nostre nuove amiche della domenica vite da palcoscenico non vi diciamo niente guardate la clip intanto faccio una corsa dall'altra parte dello studio infatti non foste a vivere come bruti ma per seguir virtù d'eccanoscenza lei dove va? io altrove altrove allora prenda le sue carabattole perché altrove è di là e ovunque di qua devo dire che questa clip è magnifica c'è la firma di Giuseppe Cutrona e in studio ci sono Fioretta Mari e Ida Elena De Razza la figlia che è una interprete straordinaria che impareremo ad amare anche in Italia perché mamma Fioretta qui si sono capovolte le cose tua figlia è una dei massimi interpreti della musica celtica nel mondo ma finalmente lavora con te prima domanda dono di Dio intanto possiamo ringraziare già il pare eterno di questo oh subito senti Fioretta tu sei la come dire selezionatrice per antonomasia di amici 20.000 ragazzi in 10 anni tu hai visto sulla scena con tua figlia ma me lo dici che mamma sei che artista sei severa c'è l'indulgenza che cos'è sono molto severa però io vorrei dire una cosa prima di tutto finalmente Domenica Dio ti benedica quanto finalmente vedo la mia Lucia sei una donna di parola perché mi avevi detto che saresti tornata e l'hai fatta hai visto sai cos'è tu sei una delle più importanti presentatrici ma sai perché sei importante non ti montare la testa perché sono sottoterra in questo momento ecco in questo momento però sei importante perché tu ami gli attori tu ami quelle persone che hanno bisogno di essere amate noi attori siamo bambini abbiamo la sindrome di Peter Pan il momento che lo perdiamo finita Fioretta ma come si fa a non amare chi regala felicità me lo spieghi come avete fatto voi come state facendo voi ci arriveremo tra poco che noi siamo venuti come al solito a curiosare è tutto qui il segreto possiamo soltanto portare felicità nelle case delle persone grazie a dei talenti che sono innegabili ricordati che il televisore è una magia attraverso il tubo catodico tu passi quella che sei non puoi blefare perché passa io entro dentro le case delle persone e la persona capisce che di me si può affidare dici ma come fa non lo so non lo so perché è un mistero è un grande mistero è guai a sottovalutare l'intelligenza del pubblico che capisce benissimo dove è la pensura il pubblico è molto intelligente Fioretta adesso fammi fare l'arbitro ora scarico su tua figlia la domanda che ho fatto a te eh perché io devo sapere fai finta che mamma non ci sia che che compagna di scena è Fioretta Mari una compagna di scena perfetta da cui si può solo imparare io quando sono dietro le quinte con il beneficio dei miei compagni che devono entrare in scena mi metto da una parte guardo osservo imparo senti Ida allora la famiglia da cui viene tua madre sono sei generazioni tredici generazioni con lei oddio io volevo evitare questi sparare questi numeri me li confermi dodici con me tredici con lei allora potevi fare altro nella vita questa è una domanda che ti avrei voluto fare già quando ci siamo viste la prima volta non avevo scelta in realtà io ho provato a oppormi perché sono andata all'università ho studiato mi sono laureata in lingua e linguistica e poi ho detto ok questa laurea la metto da parte che non si butterà mai sarà sempre utilissima no perché anzi mi ha mi ha aiutato nel mio imparare le lingue che poi ho continuato a fare andando in giro per il mondo voglio fare adesso una domanda alla mamma tu di sacrifici ne fatti tanti nella vita per questo mestiere arrivi in scena a tre anni vedi anche morire una madre attrice sul palcoscenico all'Eliseo all'Eliseo sì però io sono la prima interprete nel mondo di Porta un bacione a Firenze avevo tre anni esatto e mi ricordo questo signore anziano me lo ricordo questo spadaro no e mi ricordo vagamente se non fosse per il giornale La Nazione che mi ha premiato anche io è tutto vago l'unica cosa che mi ricordo che piangevo molto sai la canzone si prega Porta un bacione a Firenze partivo una mattina con il vapore sai tutte quelle cose così e mi è venuta in mente una cosa io credo che il Porta bacione a Firenze possa diventare l'inno degli emigranti bellissimo perché la canzone dice Porti un bacione a Firenze che l'è l'amicità e tanto non ci vuoi ma la Porti un bacione a Trieste e adesso ci ho anche pensato un'altra cosa la Porti un bacione la la capitale si chiama Kiev la Porti un bacione a Kiev è vero che potrebbe essere in questo momento forse la capitale del mondo che è ancora a cuore l'umano che ancora si prende cura di chi gli è intorno Fioretta sei disposta a vedere una figlia fare gli stessi sacrifici che hai fatto tu sai cosa lei è cresciuta in una valigia perché ha viaggiato con me con Tognazzi con Manfredi con Turi Ferro con Albertazzi con Ciacca con tutti con Leo Cullo tutti tutti gli attori che ho potuto diciamo nei troppi che se no capiscono quanti anni ho ma tu sei una bambina c'è una bambina io devo stare zitta però però lei non poteva fare che questo perché è una famiglia i Carrara una famiglia di attori una famiglia che risale al 1400 per cui noi abbiamo lavorato i nostri avi lavoravano nelle terre dove li mettevano in terre sconsacrate gli attori oggi l'attore può fare il presidente d'America cioè si è catapultata la situazione però io credo io credo che l'attore serio l'attore per bene venga riconosciuto dal pubblico stare con mamma allora ti faccio una domanda di quelle cattive uno potrebbe dire grazie è la figlia di Armando De Razza e di Fioretta Mari è quasi scontato che tu sia lì quanto hai saputo aspettare la tua occasione quanto invece hai dovuto sudare per tutto questo ho sudato tantissimo io ho anche deciso di emigrare per dimostrare che non c'entravano mio padre e mia madre nelle mie fatiche professionali sono andata in posti dove neanche volendo avrebbero potuti conoscerli perché non possono comunicare in Germania prima in Svizzera dopo e questo mi ha dato anche la possibilità di capire chi fossi che cosa volevo fare e poi con la mia professionalità con il mio bagaglio anche con un po' di anni in più ho potuto portare in scena quello che ho imparato negli anni e adesso se lo vogliono dire che sono figlia d'arte che lo dicano io ne sono orgogliosa ma nel vero senso della parola però quanto hai dovuto davvero dimostrare forse prima a se stessi Fioretta c'è stato un momento in cui hai pensato era meglio forse immaginare per lei aiutarla ad immaginare un'altra vita non credo non credo perché lei è stata impastata d'arte fin dalla nascita io per averla sono stata a letto quasi nove mesi lo rifarei domattina perché avere un figlio è un dono di Dio così grande che forse uno non è neanche degno di un dono così però è venuta fuori una ragazza stupenda una ragazza con una nobiltà d'animo una creatura di sogno ma sai appena sentivano che era figlia di Fioretta Mari sai non ti possiamo prendere perché se no dicono che sei ma state scherzate oggi i figli dei portavano dappertutto è cambiata tutta la situazione guarda questo ci aiuta anche a capire qual è la difficoltà dei figli d'arte che noi siamo pensati li pensiamo come dei privilegiati e invece c'è la fatica di poter emergere c'è la fatica di poter stare su un palcoscenico cantare a squarciagora per due ore regalare Lustrini e Paillette con uno spettacolo che credetemi vi ci imbatterete tutti prima o poi perché comincia a girare anche all'estero guardiamolo ce ne andiamo in pubblicità e poi tornate qui non vi muovete guardate ben tornati a finalmente domenica grazie Alessandro Tresa alla nostra regia per questa carrellata di buon umore che era ai nostri spalle la grande occasione e l'ultima scommessa di Fioretta Mari e di Ida Elena della razza sua figlia ma che è un interprete straordinario quel ma per chi ci ha seguito finora ha un senso non si dica che sono figli d'arte semplicemente raccomandati o altri c'è tanta fatica c'è tanto sudore ma posso dire una cosa c'è un'allegria straripante nella grande occasione chissà se va che è qualcosa di cui abbiamo bisogno Ida comincio da te un'operazione coraggiosissima non svegliamo troppe cose perché avremo ancora tempo per parlarne Paiet e Lustreni che tornano in scena la commedia proprio nell'accezione più classica possibile un musical anche porta a teatro lo spettatore beh che dire è proprio in questi momenti di incertezza e di grande paura che servono spettacoli di questo genere perché non dobbiamo buttarci giù dobbiamo sempre cercare di rimanere alti con l'animo proprio durante i momenti delle grandi guerre c'è stato il grande varietà per l'appunto e che dire se volete passare due ore di spensieratezza e di grande felicità che è un tema ricorrente ma non voglio dire altro venite a teatro venite a vedere la grande occasione chissà se va Fioretta lavori come al solito con i giovani i tuoi coetanei praticamente lavori con delle persone straordinarie e si vede se mi permetti che c'è alchimia tra di voi questa cosa arriva a casa perché insomma tu sei una prima donna che però si mette ancora una volta a disposizione bella questa frase che hai detto posso dirtelo? tu lo sai io ti ringrazio io ho fatto un'intervista recentemente e questo giornalista mi ha chiesto lei come si considera io mi considero prima donna mi ha guardato come per dire questa ma chi se crede d'essere no 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 nel senso che prima sono donna poi sono attrice le chiedo scusa ecco non giudicate bisogna imparare a non giudicare nella vita ricordati la mia massima se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto quanti mai che invidia fanno ti farebbero pietà metastasio e sai uno dei segreti del nostro spettacolo prima di tutto nella stima che abbiamo tutti l'uno per l'altro nella bravura di questi artisti quando la gente verrà a vederci che poi ti diranno le nostre date quando verranno a vederci tutti ricordatevi qual è il segreto di questo spettacolo la bravura degli artisti la regia meravigliosa di Marco Simeoli le coreografie di Maura Papero sono una cosa pazzesca l'aiutoregia c'è stata un aiutoregia ma il grande segreto le musiche di Pino Perris il rispetto l'uno dell'altro che credete ci è palpabile e allora e i costumi scusa di Graziella Perris è tutta una cosa pazzesca è una roba confezionata addosso gli uni per gli altri ma io ti canterei qualcosa mia cara ti direi una volta ma per sbaglio io mi presi un bel sbaglio guardate qui guardate e noi stiamo a teatro guardate dissi di sì e non l'avevo prevista tra la grande occasione permettetemi di aggiungere un altro elemento il coraggio sì perché ci vuole coraggio a puntare non solo sul teatro adesso ma a mettere in piedi uno spettacolo come questo e di questo ringrazieremo tutti Maria Carla Rodomonte che oltre ad essere produttrice e anche Jessica dopo Berta e dopo Ida che sono le interpreti di questa di la grande occasione Jessica tu sei la protagonista di una trama che noi accenniamo perché poi non va svelato nulla allora io sono la protagonista o meglio sono la protagonista insieme a Berta perché reggiamo un po' tutto il dietro le quinte di questo spettacolo e come dicevamo poc'anzi insomma l'ha detto Berta l'ha detto Ida è uno spettacolo che lascia tanti messaggi dietro l'allegria la gioia la felicità comunque ci sono dei messaggi che sono che non hanno tempo potevano andare bene negli anni venti negli anni trenta vanno benissimo adesso perché comunque l'essere umano per quanto è voluto sia comunque dentro di sé ha quei semi quei valori che continueranno fino alla fine dei nostri giorni ed è una trama estremamente moderna ed attuale perché sono tempi in cui la seduzione del potere è ancora forte anzi forse potrebbe dire qualcuno più che mai forte però c'è anche un cuore al quale dobbiamo dare conto Fioretta e noi questo non ce lo dimentichiamo è una vecchia storia del varietà esatto il pezzo grosso che si innamora della prima donna e devi essere carina con lui mentre lei è innamorata del primo attore che è uno straordinario Masciarelli ma quanto è dimagrito Stefano Masciarelli è molti ma è diventato incredibile ma è di una bravura ma poi quanto è bravo Mimmo Mignemi l'autore l'autore io non so parlare di tutti come si fa a dire cosa ha composto questo spettacolo Maria Carla però potrebbe risponderci anche su un'altra cosa il coraggio di osare in tempi come questi tu sei un panzer avrai bussato a mille porte abbiamo accennato prima qualcosa prima di incontrarci ma voglio dire si può ancora mettere in scena un lavoro come questo si può ancora chiedere alla gente venite a teatro divertiamoci riflettendo io dico che parto dal dal coraggio l'osare il coraggio è osare il coraggio è mettere in atto tutto ciò che nasce dentro di te tutto ciò che è elaborato dentro di te quello è il coraggio quindi la capacità di esternare ciò che è dentro per quanto riguarda bussare alle porte ho bussato alla mia porta ed è la porta del cuore perché questo spettacolo nasconde e comunque avete detto poco fa trasferisce al pubblico tutto l'amore con il quale è stato posso dire inseminato gestito e partorito quindi nasce da un valore alto che è l'amore e la libertà due valori importanti della mia vita bellissimo che ho semplicemente messo in atto e continuerò a farlo perché ho sempre creduto che tutto ciò che viene da te tutto ciò che elabori è sicuramente un successo guarda io non posso che applaudire a questa a questa affermazione in tempi in cui noi rischiamo sempre di sottovalutare tutto a un peso tutto anche a un costo nella vita ma possiamo sempre scegliere la via più faticosa ma che al tempo stesso ci darà più soddisfazione sai che cosa amore lei mi ha convinta quando ci siamo conosciute perché lei ha un cuore enorme lei io l'ho recepito subito poi lei mi stimava già da tempo chi è che non ti stimava e allora poi ci legava la stessa amica che lei lei fa tutto questo in ricordo della grande posi però io ti dico mi ha convinta io ho lasciato tutto ma sai cosa mi ha convinto quando lei mi ha detto io ti faccio stare con tua figlia finito e l'hai stato finito ma sai che responsabilità che hai avuto Ida Elena a questo punto se no mamma non l'avrebbe fatto no non l'avrei fatto ma ti dirò di più lei ha lasciato una cosa importante lei ha spettacoli tutte le sere ha concerti lei laggiù è un pezzo grosso pur di stare qui chi conosce la musica celtica sa di che cosa e di chi stiamo parlando è di nicchia in Italia è di nicchia però laggiù in Germania non esiste la nicchia esiste solo il pubblico bello 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 prendetemele ste due che adesso si adesso io ti dirò che tu hai sbagliato ah perché qui in Italia a sciacchensa plus a sciacchensa plus al suo momento giusto e questo era questo momento Maria Carla le date perché poi ci chiamano immediatamente al centralino in tasa dove vi vediamo insomma da oggi pomeriggio da domenica in poi tra l'altro so che state partendo anche per le tournee all'estero esatto allora abbiamo fatto l'ultima diciamo fresca fresca data ieri sera infatti io vi ringrazio non saprò mai come ringraziarmi anche lì un grande pubblico entusiasta la cosa più bella di questo spettacolo è la gioia che vedo anche dal palco negli occhi delle persone magari si può dire ma un'attrice come fa a guardare gli occhi delle persone arriva tutto è il pubblico che fa lo spettacolo brava e quindi continueremo ancora partiremo le prossime date per Milano benissimo a Martinit saremo 15 giorni saremo ad Assisi saremo a Catania saremo a Barcellona Pozzo di Gotto saremo a Marsala insomma ci sono tante date ancora che potete trovare sul nostro sito fatto benissimo perché abbiamo un supporto magnifico dell'agenzia di comunicazione che ci sta seguendo Creativin di Campobasso che voglio ringraziare ovviamente perché stanno facendo un lavoro pazzesco questo ancora una volta è un gioco di squadra e permettetemi dire che la grande occasione è veramente per tutti noi abbiamo sforato ma io non posso non ringraziare Maria Carla Rodomoni la nostra Fioretta Mari Ida Elena De Razza siete tre donne splendide e portate la felicità allora regia poiché mi stanno facendo dei gesti biechi mi alzo un momento non abbiamo tempo per fare quella camminata tanto sto anche vicino a loro perdonatemi vi chiedo veramente perdono ma c'è il cielo e la terra che si baciano anche in questo punto del nostro studio per dirvi grazie ancora di essere stati con noi per dirvi che ce ne andiamo all'urdo ma che l'appuntamento se volete come sempre per domenica prossima alle 17 grazie grazie a tutti grazie a tutti